Venetico, incendio in un'autocarruzzeria. Sul posto i vigili del fuoco. Venetico, un incendio è divampato a Venetico, all'interno di un'autocarruzzeria. Non si conosce ancora la matrice del rogo né la dinamica di quanto successo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Una coltre di fumo nero si è sprigionata dal locale interessato delle fiamme, che si trova lungo la via nazionale, a fianco di una chiesetta. Non si registrano feriti, ma solo danni a cose. Un rogo è divampato all'interno di un'autocarruzzeria a Venetico, accanto la chiesa della Madonna del Carmelo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la pulizia municipale. Le fiamme sono state domate e si registrano danni alla struttura. Sono stati avviati gli accertamenti necessari a risalire alle cause dell'incendio. Grande la pressione da parte dei residenti.